Non solo sulle vittime, ma anche sulle famiglie. Ritorniamo in diretta dall'Aula Nuova del Sinodo con l'intervento che è appena cominciato del Cardinale Servire. Le persone giustamente chiedono, ma voi che siete chiamati ad avere l'odore delle pecore su di voi, non avventarci a una posizione in cui diciamo ambedue e quando facciamo queste domande. Il Cristo nelle ferite dell'umanità è un amore che gli obbediscono. Quindi le ferite del Cristo risolto ricordano i discipoli dell'amore che è pronto a essere...